Penso che i più famosi per chi davvero è stato in carcere siano i 5 punti sulla mano. O detti 5 punti della marita. L'occhio dietro alla schiena? Eh, attenzione, sono sempre sul chi va là. Allora, spiegaci come venivano fatti un tempo e se ancora adesso vengono fatti allo stesso modo in carcere. Sì, vengono fatti allo stesso modo intanto, ci siamo un pochino più evoluti ma bene o male la situazione è sempre quella. Ovviamente quando parlo parlo sempre di qualcosa che ho vissuto, quindi che ne sono a diretta conoscenza, non per sentito dire. Diciamo che la maniera più artigianale per farsi i tatuaggi in carcere è semplicemente gli aghi, uno o due, forse meglio, legati insieme con il filo e quindi un pezzetto alla volta. E per l'inchiostro? Per l'inchiostro è una nota tragica e dolente, perché i metodi per fare l'inchiostro o nerofumo in carcere sono stati usati da tutti, me compreso, e si utilizzavano robe che fanno la brevidire a pensarci, del tipo, cioè il nerofumo non è nient'altro che il fumo, quindi la fuligine della plastica bruciata. Cosa si bruciava? Coltelli di plastica che all'amministrazione passava o che ti comperavi, suola delle scarpe, un paio di scarpe da tennis vecchie, ti mettevi con le braccia fuori dalle sbarre sul davanzino della finestra, gli davi fuoco, quindi cominciano a bruciare, si prendeva un coperchio di una pentola, lo si metteva sopra alla fiamma, sotto un piatto di acciaio, di quelli dell'amministrazione perintensiaria, quindi alla fiamma, sopra mettevi il piatto, il coperchio, all'interno si forma tutto il nero della fuligine, che è una polverina molto palpabile e sottile, per dare un'idea, la cipria, viene fuori una fuligine, una polverina, a quel modo come la cipria, a quel punto viene grattata con una lametta, messa in un contenitore, un tappo di plastica di una bottiglia, un contenitore o qualcosa, diluito con un'altra sostanza un po' più densa, il dentifricio colgate bianco era perfetto, meschiato, viene fuori una poltiglia grigio-nera, di quel colore che poi diventano i tatuaggi monocolore, non quel grigio. Quindi non liquido come il tatuaggio normale, un denso più che liquido? Sì, la densità poi stava lì, all'edificio? L'alchimia e la bravura del tatuatore stava anche nel fare un buon nero fumo, se era troppo denso veniva diluito, con cosa lo diluivi? Una goccia di denim, il dopo barbo, o comunque qualcosa di alcolico, quindi diluivi e facevi una sorta di... e quello si usava. Ovviamente è il fumo di una plastica tossica, non una scuola di una scarpa, è tossica. Un tatuaggio battuto a mano, così, con due aghi e un po' di filo, capite bene, insomma, l'igiene, arrivederci. Tant'è vero che spesso, infezioni... Poi come si sono evoluti? Poi si sono evoluti, anche qui, no? L'estro e la capacità di adattarsi quando le cose non le hai, un tempo c'erano gli stereo sette, quelle cui Walkman, per intenderci, ok? Walkman all'interno c'è un motorino che fa girare poi le cinghie delle cassette, quindi, i Walkman andavano per la maggiore, si staccava il motorino, lo si montava, facendo gli accrochi incredibili, che poteva essere anche utilizzando, che ne so, il manico del cucchiaio di plastica, sempre dell'amministrazione presidenziale. Le posate dell'amministrazione presidenziale sono una sorta... poi magari troveremo dalle immagini vere di quei cucchiai, è un manico di plastica e il pezzo del cucchiaio non è certamente ferro, ma è un alluminio molto molto morbido. Quindi lì sopra, la parte del cucchiaio si appoggiava al motorino, si faceva tutto un accrochio, si faceva passare la bacchetta, che poi sarebbe stata quella che batte con l'ago, dentro ha una penna, un tratto clip, con i pennarelli che si fanno ok, con le pile, e diventavano delle vere e proprie macchinette per tatuare. Quindi l'evoluzione è quella. Vi assicuro che ho visto di quelle macchinette costruite con materiale di recupero, a parte il motorino ovviamente, quindi un Walkman andava distrutto, bellissime, cioè bellissime, fatte bene, addirittura con la possibilità, chiaramente una volta finito il tatuare, di smontare la bacchetta dove veniva poi attaccato l'ago da cucire, perché di quelli si usavano, da ricamo, si riusciva a farsi portare gli aghi da ricamo. E come entravano gli aghi? Con l'opio, cioè, un familiare si appuntava, insomma, immaginate, con la perquisita che non si sente neanche, quindi entravano. Poi vabbè, in alcune situazioni, in alcune liste della spesa dentro le carceri, si poteva comprare l'ago, si chiamava la treccia, vedevano proprio una treccia di fili multicolori, e gli aghi, per poter cucire, perché se si strappa qualcosa, pergli un bottone, quindi, li reperivi anche in maniera regolare. Quindi, macchinette, le tatuaggi fatte in quel modo, molto belle, alcune addirittura con l'interruttore, che venivano montate, facendo sì che magari un pezzettino di ferro, col dito, una volta che le impugnava, interrompeva, o alimentava, cioè, bellissime, visto i tatuaggi, che non avevano nulla che invidiare, a tatuaggi fatti fuori, no? Però, ovviamente. Allora, adesso passiamo, ai significati dei tatuaggi. Allora, volevo chiederti, ma quando un detenuto si fa un tatuaggio, c'è sempre un motivo di fondo, dietro, o li facevate un po' a caso? Si può dire parolaccio, o non si può dire? Meglio di no. Allora, il motivo di fondo, perché se ci si fa i tatuaggi in carcere, secondo me, l'80% ci si fa un tatuaggio, perché in galera ci si fa il tatuaggio. Poi ognuno si fa il suo tatuaggio, si fa il tatuaggio che più preferisce, anche qui, scegliendo il disegno che più gli piace, poi alcune volte, chiaramente, il tatuaggio ha un significato, no? Andando indietro indietro negli anni, sapete bene, insomma, che il tatuaggio era un simbolo identificativo, quasi, prettamente ed esclusivo, di chi era stato in carcere, o che so, ancora più dentro, dei marinai, no? Chi è che si è detto? Marinai, oggi ormai il tatuaggio è sdoganato, non li veniamo addosso a chiunque, salvo per trovare gente che fa i tatuaggi, dopo un anno se li vuole togliere, e si brasa la pelle, andando a spendere il tribolo, un tempo i tatuaggi era quella la tipologia, e chi andava in carcere si tatuava con una simbologia precisa, soprattutto se quella simbologia doveva connotare un'appartenenza a qualcosa o a qualcuno. Allora adesso ti dico alcuni tatuaggi, e tu ci spieghi il significato, se hanno un significato dietro, ho tolto per correttezza la maggior parte di quelli stranieri, perché comunque non appartengono alle nostre origini, quindi magari non diciamo il significato, ma non è quello. Allora, penso che i più famosi per chi davvero è stato in carcere, siano i cinque punti sulla mano. Ho detto i cinque punti della marita. Sì, più delle volte veniva fatto qua. no? Proprio in questo incavo, la simbologia identifica tu al centro di quattro mura. Era un tatuaggio che allora vedevi abbastanza spesso e simboleggiava, o meglio simboleggiava, il più delle volte era addosso a persone con un'appartenenza a qualche organizzazione come oggi ne intendiamo, una organizzazione mafiosa. Poi anche qui, negli anni, si è sdoganato, si è sdoganato nel senso, se lo faceva anche, chi era stato in carcere una volta, e aveva cinque punti della malavita, o bello, mi aveva cinque punti della malavita. La lacrima sotto l'occhio? La lacrima sotto l'occhio, che oggi vediamo spesso, anche qui, tatuata anche a, non so, personaggi, cantanti, in realtà la lacrima sotto l'occhio era un tatuaggio che simboleggiava qualcuno che era in carcere per omicidio, più spesso, o all'ergastro, esatto, o all'ergastro, anche qui poi, la simbologia si è snaturata, ovvio. Sì, adesso è un po' più per moda tatuarsi, in senso. Pugnale con serpente? Pugnale con serpente, vendetta, tremenda vendetta, vendetta, tremenda vendetta verso una donna che ti ha tradito, ma più perché verso una donna che ti ha tradito, verso proprio un tradimento, no? Che ti ha... Infamincarci. Esatto, no? Ha un'infamità, quindi... Allora, questa qui è più particolare per i veri intenditori. Che è? Chiave, remo e ancora. Bellissimo. Puoi spiegarcelo. Sì, sapendo che ridi già per conto tuo. beh, ovviamente, allora, chiave, inteso proprio come la chiave, una chiave, una chiave di serratura, il remo, il remo di una barca e l'ancora di una nave. Veniva proprio tatuato con questa sequenza, l'ancora, il remo in diagonale da destra o sinistra o viceversa e la chiave dall'altra parte. Ovviamente, se provate a dire tutte e tre partendo dalla chiave e dal remo e dall'ancora con una soluzione di continuità, il significato vi sarà ben chiaro, no? Quindi, era più un proprio... Un auspicio. Esatto, un auspicio perché tutto questo finisse presto per poter tornare a fare una delle cose più belle della vita con il video. La rosa dei venti. Io ho letto che la rosa dei venti sta solitamente a significare un ladro di alto rango. So che tu ce l'hai, ma è così? Io me la sono... Cioè, di secondo me siamo caduti molto in basso nel linguaggio ad katsum. Cioè, ce l'ho tatuata qua, ma... Non so, io me la sono tatuata perché mi piaceva il simbolo della rosa dei venti e... Tra l'altro me la sono tatuata in posizione in cui il nord lo vedo io, per cui il nord quindi al contrario per chi mi guarda è rovesciata, no? Quindi io me la sono tatuata perché mi piaceva. Il Cristo con corona di spine. Oh, bellissimi. Ho visto di quei Cristi con la corona di spine. Alcuni che bisognava essere fatti di acidi o di LSD per capire che fosse un Cristo con... Uno in particolare di un ragazzo che ce l'aveva tatuato su tutto il petto e l'aveva fatto negli anni settanta con un chiodo ma con un chiodo veramente quindi ogni... cioè tra un punto e l'altro ci stava un dito i capelli erano cinque o sei punti insomma era veramente una roba astratta un Picasso più, no? è un tatuaggio molto particolare ne ho visti anche invece di molto belli ho visto delle schiene intere tatuate con la faccia di Cristo con la corona di spine e intorno gli angeli del paradiso con le nuve la colore cioè un'opera d'arte un tatuaggio ma è più un messaggio di perdono o sono loro che stanno assumendo un calvario cioè come... allora chi si tatua però figure o effigi prettamente legate alla religione cristiana sono persone fondamentalmente credenti quindi poi credo che ognuno ci attribuisca il suo significato a quelli però ce ne sono o io questi genti con tatuato anche padre Pio proprio padre Pio proprio quindi ognuno mentre invece la madonna che alcuni si tatuano però sono talmente negli ultimi anni sono tatuaggi che ho visto fatti molto bene sui sudamericani sudamericani che comunque per loro sono molto credenti hanno dei tatuaggi con effigi della nostra cristianità della nostra religione pazzeschi restando in tema di madonna che era una mamma i tatuaggi dedicati alle mamme mamma vita mia mamma perdona mamma vita mia mamma perdono sono quelli in dallo parole mamma vita mia è un tatuaggio che se non sai che quale ha il significato non lo comprendi perché non veniva tatuato mamma vita mia venivano tatuate le iniziali mbm mamma vita mia anche qui la dimensione poteva essere in base al pentimento bravissima roba di caratteri cubitali roba piccola mamma vita mia mamma perdono invece capite bene che non riesci a fare un acronimo di mamma perdonami per cui scrive mamma perdonami no c'è roba tipo mamma perdono mamma vita mia un altro sul perdono o comunque di queste era donna che tradisce non merita perdono no e ci arrivavo adesso donna che tradisce non merita perdono travisità restando in tema di donne tutte le donnine che vengono tatuate tipo le pin up così c'è un significato o già io c'è una qua che sembra che sembra un po' non so se ricordo bene i nomi Shina Shina la principessa guerriera sembra un po' Shina che è un tre quarti di busto che esce dall'acqua con la sciabola io l'ho tatuata perché leggendo un giornaletto avevo in mente di farmi un tatuaggio volevo farmi un tatuaggio stavo sfogliando il giornaletto ho visto questo mi piace facciamoci questo in realtà le donnine le cosiddette chiamiamole pin up noi tutti i generi diciamo che per quasi la totalità del detenuto che si se le fa le fa solo perché gli piace l'immagine della pin up la mancanza di donne invece l'araba fenice anche quella ce l'ho l'araba fenice ce l'ho qua sul petto tra l'altro non finita l'araba fenice ha invece un verbo anche qui non so quanti sappiano che l'araba fenice ha il significato della rinascita no? del risorgere dalle proprie ceneri io l'ho in realtà io lo sapevo ma mi sono fatto quella per coprire un'aquila che più che un'aquila sembrava l'efficio della moto guzzi perché era orribile anni e anni dopo un giorno decisi di coprirlo e quella che ci stava meglio per coprire quello sotto fu un disegno dell'araba fenice per cui me la sono fatta sul petto però sì diciamo che l'araba fenice viene fatta un giorno tutto questo finirà e risorgerò dalle mie ceneri carcere galera e tomba 30 anni di galera non mi fanno ombra bellissimo tutto proprio il testo questo è proprio ma oltre che un tatuaggio è una frase che molto spesso senti dire e che è un tatuaggio e una frase come il punto che ho appena detto che spesso senti dire a persone di vecchio stampo di vecchio lignaggio dell'andrangheta calabrese e viene detto proprio in dialetto che io adesso non ripeto perché non voglio storpiare un dialetto perché non sono anche in grado esatto quindi sì l'ho visto e l'ho sentito io avevo un coimputato che quando esordiva lo diceva spesso quindi un po' più non ho paura di commettere un omicidio perché tanto nessuna punizione di nessuna punizione ho paura neanche di quella di stare tutta la vita in carcere l'occhio dietro la schiena attenzione sono sempre sul chi va là un po' come il terzo occhio mi guardo le spalle sto attento non riuscirai a tradirmi non potrai mai pugnalarmi come mai invece vengono sempre fatte le carte da gioco ma guarda quello gioco d'azzardo le carte le carte da gioco spesso veniva tatuato anche solamente l'asso di bastoni l'asso di bastoni era un tatuaggio che vedevi molto frequentemente anche qui il significato secondo me di questo tatuaggio si è perso un po' nel tempo e si è sdovanato in realtà l'asso di bastoni veniva inizialmente se andiamo a cercare l'origine del significato se lo tatuava chi apparteneva anche qui a un certo tipo di mafie e aveva un ruolo all'interno quindi non a caso un capo bastone nella gerarchia andranghettista un capo bastone è un capo poi cominciano i capi decina i capi bastone sono tutte simbologie che determinano un'appartenenza e un ruolo di responsabilità verso altri uomini poi gli altri uomini sono i soldati poi anche qui poi si è perso perché l'asso di bastoni nelle carte da scopa napoletane è bello come disegno perché uno si faceva l'asso di bastoni o i quattro assi però buongiorno si è beviato anche il gatto e voi non lo sapete ma lui prima non era a strisce si è tatuato su un po' allora io ti ringrazio tantissimo se siete interessati il prossimo video vi facciamo vedere tutti i tatuaggi di Francesco così ce li commenta preparatevi psicologicamente grazie a te Chiara ciao grazie